che cosa stai facendo ti lascio giù adesso oh ma no ragazzi io non ho parole io non ho parole devo spaccare qualcosa ma tranquillizzati 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 cazzo cazzo figa salto sempre troppo presto cazzo are you stupid or something voglio la pietra a fare non ci credo non ci credo mi hanno un po' di bloccato dice cazzate ready aim fire non c'è che non c'è stile di gioco non c'è stile di gioco non c'è porco diaz non c'è stile di gioco ma che cazzo fai oh cazzo oh vai a far culo noi da pad non abbiamo più la soft aim noi da pad non possiamo più fare come facevamo prima non siamo capaci più a farlo buon appetito oh you touch my tra la la no 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 figa no figa no figa andiamo che culo che culo che culo di merda let's go minchia che culo di merda let's go let's go oh